Le lunette di Giusto Utens. Autore, Giusto Utens. Committenza, Ferdinando I de' Medici. Data, 1599-1603. Ubicazione, Villa della Petraia, Piano Terra. Tra il 1599 e il 1603, il pittore fiammingo Giusto Utens compose un ciclo di 17 tele per il Granduca di Toscana, Ferdinando I de' Medici, con l'obiettivo di ornare il salone principale della villa di Artimino, situata a Carmignano, in provincia di Prato. Le tele raffigurano, tramite un'inquadratura in campo lungo, 17 ville medicee, di cui solo 14 sono giunte fino a noi, quelle che rappresentano le ville di Cafaggiolo, Trebbio, Pratolino, Marignolle, Lappeggi, Castello, La Petraia, Palazzo Pitti, Poggio a Caiano, Ambrogiana, Monte Vettolini, La Magia, Colle Salvetti, Seravezza. Molto probabilmente, le tre tele perdute raffiguravano le ville di Careggi, Cerretoguidi e Artimino. Ognuna mostra al centro, tranne quella dell'Ambrogiana che ne è decentrata, il fabbricato padronale, ossia la villa vera e propria, circondata dalle sue pertinenze, giardini fioriti, campi arati, coltivazioni e fontane. La rappresentazione a volo d'uccello si sposava perfettamente con il luogo in cui furono originariamente poste le tele, cioè le porzioni di parete dove il soffitto avvolta del salone si interseca con le pareti stesse, formando semicerchi tecnicamente definiti lunette. Da ciò deriva il nome lunette di Utens, con cui ancora oggi le tele sono conosciute. Probabilmente Utens elaborò personalmente dei rilievi molto accurati di ciascuna villa, che in seguito tradusse sulle tele, immortalando le singole proprietà granducali con precisione calligrafica e in forma sintetica e unitaria. Le lunette testimoniano pittoricamente la struttura del dominio medice in Toscana, dove la villa era al tempo stesso luogo di delizie e centro produttivo, vero e proprio microcosmo attorno al quale ruotava la vita della corte fiorentina. Dopo essere state a lungo in deposito presso il Museo Storico Topografico Firenze Comera, nel 2012 le lunette sono pervenute a Villa della Petraia ed esposte al pubblico in occasione dei festeggiamenti per l'iscrizione della villa nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco del 2013.